Ciao a tutti ragazzi, grazie tantissimo per il supporto e il sostegno che mi avete dato nel video di questa mattina dove vado a parlare di Allegri e di come ha preparato Allegri la partita ho visto che ci sono stati tantissimi che hanno abbracciato e appoggiato la causa io chiedo anche scusa a chi invece mi ha scritto sì però, infatti alzare i toni non mi è piaciuto e avete ragione perché bene o male sapete che su questo canale i toni non si alzano praticamente mai ma ci sono delle volte veramente che mi girano sono umano come tutti e quindi passatemi quella volta in cui decido di alzare un pochino la voce soprattutto perché a me va bene tutto detesto la malafede la malafede è l'unica cosa che non riesco a farmi andare giù poi le opinioni secondo me sono sacrosante tutti hanno il diritto di dire la propria mi collego anche a questo discorso perché sono stati fatti diversi nomi nei commenti di persone che fanno YouTube fanno la stessa cosa che faccio io parlano di calcio, analizzano la Juventus non mi sogno, non mi permetto assolutamente di giudicare il loro lavoro in primis perché non li seguo non guardo nemmeno i video non ho idea di quello che dicono non ho interesse nel seguire i loro contenuti perché so che hanno un taglio diverso dal mio e attenzione non sto dicendo che non voglia sentire campane diverse da quello che penso io secondo me il ragionamento è sempre bello è sempre bello discutere però lo faccio con persone con cui mi trovo bene e che conosco e i video che seguo sono degli altri ragazzi che negli anni sono diventati dei veri e propri amici tra l'altro oggi sul canale di Lello abbiamo fatto una bella chiacchierata anche tutti insieme quindi non era un attacco nei confronti di un collega o due colleghi che sono stati nominati principalmente quanto più nei confronti della community della mia community di persone che appartengono alla mia community è che ieri sera mi hanno lasciato dei commenti che mi hanno lasciato veramente senza parole mi aggancio anche un attimo per concludere il discorso delle patenti di tifo lo so che è brutto ed è bruttissimo e lo condanno io sono il primo veramente a condannare le etichette e le patenti di tifo però come non sopporto la mala fede non sopporto il tifoso che tifa contro la squadra non me lo toglierete mai dalla testa ognuno è libero di tifare come vuole e ci mancherebbe altro ma così come io sono libero di dire che secondo me un tifoso della Juventus che tifa contro la Juventus o che non è contento dei risultati della Juventus a mio modo di vedere perché sempre di questo stiamo parlando è un'opinione personale nessuno potrà dirmi che non è vero perché è la mia opinione a mio modo di vedere chi tifa contro la Juventus vuole il male della Juventus e quindi non può essere etichettato non può descriversi come tifoso della Juventus semplicemente questo tutto il resto veramente lo lascio da parte ma io credo che il bene della Juve debba essere sempre messo al primo posto davanti a tutto il resto mi ribadisco la mia posizione non sono qui a dire che tutti dovete pensarla come me e guai a Dio che non la pensa come me non sono qui a dirvi la verità ve la sbatto in faccia non sono qui a dirvi che chi la pensa è diverso da me è un servo sono qui a dirvi che questo è quello che penso io e va accettato come io accetto le idee e le opinioni degli altri e poi dico che secondo me determinate cose non appartengono al pensiero di chi tifa una squadra chi supporta una squadra tutto qui concludiamo qui un mi piace come al solito iniziamo le pagelle vere e proprie se volete sentire quello di cui ho parlato per Allegri trovate tutto sul canale nel video precedente ancora una volta OneFootball sponsor del canale vi invito a scaricare l'applicazione il link per scaricarlo qui sotto in descrizione oppure con la fotocamera del vostro smartphone potete inquadrare qui il QR code e vi apparirà un link per il download fatelo perché ragazzi tra poco menomente poco, otto giorni c'è il Villarreal, c'è la Champions ma prima c'è anche un'altra partita in campionato molto importante da vincere Scesni 5 e mezzo qua c'è da parlare un pochino nel senso che purtroppo abbiamo anche rischiato qualcosa come dicevamo sia ieri che oggi secondo me il rosso sarebbe stato eccessivo e non mi nascondo che in diretta chi era con me in live su Twitch l'avrà visto in diretta ero preoccupato e ho pensato ovvero potessero espellere Scesni poi riguardando la scenario play ho notato che la Juventus era stata abile ad andare a coprire la porta e a recuperare quel vantaggio che c'era nei confronti dell'attaccante, di Muriel, dell'Atalanta e che quindi non poteva essere per regolamento un cartellino rosso il sacro santo sarebbe stato il cartellino giallo che non è stato estratto però abbiamo rischiato e poi il gol che abbiamo preso secondo me non è tutta completamente colpa di Scesni capisco che magari qualcuno mi possa dire eh sì però un po' sul suo palo mezzo passo secondo me non è colpa di Scesni quel gol penso proprio che si possa prendere credo che la partita di Scesni sia stata la 5 e mezzo macchiata un pochino da quell'uscita un po' così che poteva veramente costare caro però per il resto non vedo grosse colpe nemmeno la partita è dimenticabile quindi 5 e mezzo Bonucci 6 credo che abbia fatto una partita interessante intelligente diligente niente mancava zapata all'altra parte quindi contro l'Atalanta di solito Bonucci fa sempre un po' più fatica invece oggi meglio rispetto al solito però di fianco a lui c'è stato uno che ha fatto nettamente meglio ragazzi Mattias Delitz secondo me è migliore in campo da 7 da 7 e vi dico che 7 è il voto al ribasso vi dico che 7 è il voto al ribasso perché la partita di Delitz è stata perfetta in tutto e sarebbe stata forse da 9 anche c'è un piccolissimo particolare e cioè che sbaglia una cosa sola in tutta la partita quell'uscita a centro campo su Malinowski si fa uccellare deve inseguire deve rincorrere fa fallo secondo me tra l'altro becca la palla però poi va anche in contrasto con il giocatore viene anche ammunito e quel fallo e quell'uscita sbagliata a centro campo purtroppo ci costano poi il gol dell'1-0 dell'Atalanta quindi il voto è al ribasso ma rimane comunque 7 perché nel primo tempo su Bogat ci ha salvato in più di un'occasione e rimane veramente ragazzi un difensore d'élite non ce la farei sinceramente lo dico proprio tranquillamente non ce la farei a salutarlo perché questo signori questo veramente questo è un fuoriclasse questo è il Cristiano Ronaldo della difesa io credo che né Chiellini né Bonucci né Barzagli alla sua età potessero vantare questo e questo è veramente molto forte ti prego rimani con noi Matais anche nel post partita l'intervista che ha fatto ad Azzone è stata spettacolare dentro e fuori dal campo talento incredibile ragazzo d'oro sono veramente contento di avere delitti in squadra e davvero crociamo le dita a tutti quanti 6 de Sciglio una partita onesta in uno contro uno con Attebur sappiamo tutti anche l'episodio che c'è stato lasciamo da parte perché davvero medi arbitri signori me ne frega veramente il giusto parlarne abbiamo tantissimo di cui discutere sul campo perché quella di ieri sera è stata una gran partita secondo me De Sciglio ha fatto una partita sufficiente non eccelsa direi una partita da 6 poi c'è Danilo che si prende 7 anche se non è stata una partita facile per Danilo anche perché vi dico la verità l'Atalanta ha comunque attaccato e tirato tanto verso lo specchio della porta della Juve poi negli uno contro uno i nostri difensori hanno abbondantemente tamponato la loro offensiva perché se ieri sera Adelit non è in formato Superman probabilmente ne prendi due nel primo tempo vai sotto di due gol a Bergamo poi ciao ciao micio micio ti saluto non ti riprendo più partita e Danilo invece è andato in difficoltà è andato in difficoltà perché è stato l'unico giocatore a subire un raddoppio ok era l'unico che si ritrovava in due contro uno per tutta la partita infatti il cartellino giallo lo prende su Bogat ma non era il suo uomo il diretto marcatore di Danilo era Zappacosta su quella fascia e invece Bogat perché Bogat perché la Juve organizza una partita uno contro uno con gli attaccanti sui difensori dell'Atalanta Locatelli uno contro uno su Cobmeiners che ha fatto un partitone Cobmeiners veramente secondo me ha distrutto Locatelli nell'uno contro uno i nostri due meziali sui loro mediani esterno contro esterno e poi c'erano i nostri centrali contro i loro due attaccanti però loro avevano un attacco che svariava molto non avevano un punto di riferimento non c'era Zapata Muriel e Bogat sono due giocatori molto mobili e questo che cosa succedeva che quando loro partivano da dietro attaccanti su loro tre centrali o abbassavano Cobmeiners e quindi dopo Locatelli di conseguenza andava a marcare alto andava a inseguire anche nell'altro quarti campo avversaria quando loro giocavano palla da dietro oppure scendeva Bogat e quando scendeva Bogat cosa accadeva? Che poi i nostri due centrali rimanevano lì fissi in area di rigore tranne poi De Ligt con Malinoski quando esce l'abbiamo fatto per tutta la partita al contrario in quel momento siamo usciti e abbiamo preso gol e quindi Bogat andando a prendere la palla dietro sulla sinistra scendevano Bogat e Zappacosta due uomini contro uno che era Danilo e infatti il giallo lo prende lì un po' ballerino e poi trova addirittura il gol al novantesimo io sono contentissimo che l'abbia fatto Danilo intanto perché fossi stato in allenatore della Juventus Danilo non la finiva quella partita avrei optato per il cambio Danilo per quadrado e probabilmente prima dell'ottantesimo perché serve a spingere un po' di più probabilmente in quella fascia lì per fortuna non sono io l'allenatore della Juventus perché abbiamo alla fine portato a casa un punto ecco anche su questa cosa voglio entrare perché in tanti mi hanno detto come fai ad esaltarti per il pareggio e essere contento per il pareggio ma io non mi sono esaltato per il pareggio e non sono contento per il pareggio e ribadisco una cosa che vi dirò sempre e sono disposto a firmarla questa cosa datemi un foglio di carta e la firmo preferisco sempre vincere anche giocando male piuttosto che pareggiare facendo una bella partita come quella di ieri sera ma veramente se mi date un foglio di carta e una penna io ve la firmo questa cosa e quindi sono contento per la prestazione sono contento per come abbiamo giocato per l'atteggiamento per quello che abbiamo messo in campo non sono contento per il risultato sono contentissimo per averla guantata in extremis perché perdere una partita come quella di ieri sera non andava bene è contentissimo che il gol l'abbia fatto Danilo perché io sono davvero convinto che Danilo sia un gobbo marcio gobbo più di me probabilmente e quando l'ho conosciuto ho avuto il piacere di riconoscere Danilo mi ha fatto un'impressione d'oro e parliamo dell'anno di Sarri quando ancora era un po' disastroso non si era capito non era venuto fuori ed è veramente un personaggio fantastico Danilo veramente disponibilissimo e sono davvero contento di vedere l'evoluzione che ho avuto anche all'interno della Juventus non è forte come Cancelo non prendiamoci in giro perché Cancelo ragazzi lo stiamo vedendo anche a Manchester ma l'abbiamo visto anche da noi giocatore incredibile anche più giovane tasso di crescita maggiore ma Danilo non è assolutamente un brocco non è assolutamente un brocco non è Cancelo ma è un ottimo giocatore sono fiero e orgoglioso di avere Danilo alla Juventus davvero fiero e orgoglioso anche del senso di appartenenza e la fedeltà che ha verso questa maglia sono contento anche quando gli diamo la fascia di capitano perché sono davvero convinto che questo sia un senatore della Juventus e non so se avete visto qualche video della Juve nei giorni scorsi anche quando si entra in campo Danilo c'ha l'ansia c'ha quella roba che abbiamo noi tifosi ragazzi c'ha tutti gli altri un po' spensierati lì che ridono Danilo ci crede Danilo ci crede fino alla fine ed è per questo che sono contento di avere ripreso questa partita perché è arrivata all'ultimo fino alla fine c'era da crederci da rimanere in partita e da non perdere quella partita perché sono stato il primo io a dirvelo che era decisiva e hai buttato via un'opportunità incredibile perché ora non dipende più da te non è più il destino nelle tue mani cosa che vivi fino a 24 ore fa ma quel gol di Danilo ti dà speranza e vita in una partita disputata bene dove non è arrivato il risultato ma felice orgoglioso di non averla persa volevo vincerla che sono due cose differenti vincere e non perdere io volevo vincerla alla fine non l'abbiamo persa nei minuti finali e ce lo facciamo andare bene ma non significa che vada bene o che sia contento per il pareggio sono due cose diverse e vi prego di non mettermi in bocca cose che non ho né mai detto né mai pensato setta Danilo non parlerò dei subentranti perché hanno avuto veramente pochi minuti a disposizione anche di questa storia ho già parlato nel video valutazione ad Allegri sul discorso cambi parlo di Locatelli che secondo me non ha fatto una gran partita una delle partite più difficili per Locatelli ma proprio perché come dicevo prima secondo me con Mainers l'ha devastato tra l'altro il centrocampo dell'Atalanta si muoveva molto e molto bene e ci faceva perdere le marcature preventive che avevamo uomo su uomo con Mainers c'ha messo in difficoltà Locatelli bravo a non sprofondare completamente ma secondo me è una partita insufficiente è una partita da 5 e mezzo ho visto giocare delle partite davvero migliore Locatelli in maglia Juve così come non mi ha convinto McKennie l'idea iniziale di McKennie contro l'Atalanta perché lascia tanti buchi da aggredire degli spazi da aggredire ci stava anzi devo dire la verità forse mi ha esaltato vedere McKennie nei titolari l'avrei messo al posto a dire più sono sincero avrei fatto giocare Zaccaria però questo è la mia opinione non mi avrei tolto Danilo ragazzi tirate un sospiro di sollievo molto bene però McKennie non mi ha convinto al 100% ho visto un'altra gara in cui gli appoggi fa ancora una fatica incredibile di imprecesione poi alcune giocate fatte bene tipo quella con cui manda in porta di bala però ancora troppo poco deve davvero migliorare dentro il campo perché McKennie ha le qualità per diventare un grande centrocampista gli manca sempre il centesimo per fare l'euro ieri sera mi è sembrata una partita da 5 e mezzo e ve lo dico tranquillamente secondo me il miglior centrocampista di ieri sera della Juventus è stato Rabiot e ve lo dice uno che durante la partita è stato continuamente lì a dire Rabiot devi far questo no che cazzo fai devi far quell'altro no e poi c'erano i momenti in cui dicevo bravo Rabiot ok così sì ottimo lo sapete a me a Rabiot non piace anzi l'ho messo candidamente qualche mese fa ho probabilmente un pregiudizio nei confronti di Rabiot non è un calciatore che mi esalta è un tipo di calciatore che non mi fa innamorare però ieri sera in una marea di errori e in una marea di cose fatte meglio secondo me la sufficienza la strappa è del migliore del centrocampo secondo me il centrocampo è stato il reparto un po' più a fatica che ha faticato di più di tutta la Juventus però il centrocampo dell'Atalanta ragazzi è andato è andato forte il centrocampo dell'Atalanta va c'è poco da dire quindi nell'uno contro uno forse abbiamo fatto un po' di fatica Rabiot sufficiente il migliore di tre non grandissima partita di nessuno secondo me poi voglio passare a Vlaovic parto subito da Vlaovic perché come vi ho detto siccome è Rabiot il migliore del centrocampo Vlaovic siccome è il peggiore dell'attacco e questa è una cosa positiva è una cosa positiva per due fattori l'andata con l'Elas Verona l'abbiamo persa l'andata con l'Atalanta l'abbiamo persa l'andata con il Sassuolo l'abbiamo persa perché queste tre partite intanto perché sono state tre sconfitte del girone d'andata nel girone di ritorno col Verona hai vinto col Sassuolo in Coppa Italia che non è il ritorno in campionato quello lo avremo successivamente ma è un'altra partita sulle ultime tre partite che abbiamo fatto hai vinto e ieri sera con l'Atalanta è pareggiato dall'andata al ritorno da zero punti a se il Sassuolo di Coppa Italia fosse stato in campionato a sette punti ok da zero vittorie quindi tre sconfitte zero vittorie zero pareggi a due vittorie un pareggio stessa squadra con Vlaovic e Zaccaria in più ne dico un'altra il fatto che Vlaovic sia stato il peggiore secondo me dell'attacco dà davvero l'idea e la dimensione di come questa Juventus sia diversa rispetto alle altre Juventus che abbiamo visto fino a questo momento dal mercato in poi negli occhi dei giocatori vedo qualcos'altro e questa è una cosa positiva soprattutto se l'unico incastro nuovo del mercato messo là davanti fa la partita peggiore del reparto poi fosse entrata una delle due palle tirate da Vlaovic di Mancino a giro saremmo qua a dire partita perché secondo me nella lotta si è esaltato spalla alla porta ha fatto un partitone poi tante volte De Miral ha vinto il duello però è stato un duello bellissimo uno contro uno fosse entrata anche una di quelle due palle saremmo qua a dire partita di lotta generosa spalla alla porta incredibile e poi una perla o due perle di Vlaovic che hanno fatto bla 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 non sono entrate e quindi io mi limito a questo negli ultimi metri qualcosa da rivedere ed è per questo che è stato acquistato Vlaovic avere la possibilità di segnare ma dall'altra parte vi dico un giocatore del genere ha fatto esaltare tutto il resto della squadra stiamo parlando di un attaccante di 22 anni nella terza presenza negli Juventus lo stiamo ovviamente noi siamo già con la testa i parallelismi con Ronaldo con Higuain con Treseguet 22 anni terza partita nella Juve in una Juve con delle grossissime difficoltà evidenti fino a qualche partita fa dove avevamo paura di giocare contro chiunque ieri siamo andati a Bergamo a pressarli alti nella loro tre quarti io vedo delle note positive io vedo dei miglioramenti poi una piccola critica che faccio a Vlaovic ma qui frutto delle inesperienze lo dicevamo prima 22 anni quel giallo non lo puoi prendere nella Juventus quel giallo non lo puoi prendere lotta con De Miral lotta fantastica perché sono due giocatori possenti di fisico che si esaltano nella lotta non ti fischiano il fallo zitto muto gioca il giallo lo prendi dopo perché l'ho detto ieri sera in live l'ho detto anche nel video con Lello noi De Miral lo conosciamo bene calcisticamente parlando è un figlio di puttana che non lo sto offendendo anzi lo sto esaltando delle due perché un difensore con quelle caratteristiche me lo prendo sempre me lo porto in guerra tutte le volte che voglio quel giallo me lo prendi Vlaovic restituendola magari anche quando l'arbitro non vede perché si fa così in campo e soprattutto una Juventus dove ti picchieranno dall'inizio alla fine e ti faranno capire che tipo di partita sarà mattoncini eh sono cose che ti fanno crescere mettilo lì che poi l'esperienza ti torna utile quindi prima insufficienza che Dovlaovic non grave perché è un 5 e mezzo perché in un certo punto della partita mi è piaciuto tanto il punto della partita della finalizzazione invece no e quindi qua bisogna migliorare segniamocelo con la matita rossa non è una bocciatura è una critica ecco un'altra cosa sulla critica la critica serve sempre è sacrosanta viva la libertà di opinione viva la libertà di critica ma quando c'è sempre solo la critica perde il sale perde il sapore perde l'importanza perché va bene criticare ma sempre solo criticare battendo sempre solo gli stessi tasti non è più critica ma è ossessione e sono due cose completamente riferenti e dico questo perché c'è Paolo Di Bala ed è un giocatore che nella critica proprio Massimiliano Allegri e Paolo Di Bala sono i due tesserati della Juve che più di tutti spaccano la tifoseria e io non riesco sinceramente a capire questa cosa perché di uno parliamo di un attore più vincenti della storia della Juve dell'altro parliamo di uno dei giocatori che ha segnato più gol nella storia della Juve all'undicesimo posto all time di marcatori nella storia della Juve due persone che hanno fatto tanto bene per la Juve e ribadisco la critica ci sta come ci sta nei confronti Allegri come ci sta nei confronti di Di Bala ma la critica prevenuta nei confronti di uno dell'altro io la condanno e la condannerò sempre perché non esiste Di Bala ieri sera secondo me Di Bala ha fatto una prestazione da 6 e mezzo a me è piaciuta ieri sera la prestazione di Di Bala perché nel tridente è quello più fuori dall'acqua lui ama giocare per via centrali quando lo vai a decentrare ovvio che qualcosa ti perde e le prestazioni di Di Bala le andranno sempre a risentire sotto questo punto di vista sempre perché finché sarà aperto e decentrato lui ama partire da lì ma poi ama centrarsi ieri sera ha fatto un paio di volte un paio di tiri a giro ce n'è uno santo il signore Paolo Di Bala che non me lo puoi sbagliare nel primo tempo quel tiro a giro non me lo puoi sbagliare quello deve essere gol per un giocatore come Di Bala con un piede come Di Bala per le richieste economiche che sta facendo Di Bala quello me lo devi fare poi batte un angolo meraviglioso sulla testa di Danilo e tante giocate nella partita tanta disposizione anche al sacrificio e quando giochi col tridente per forza di cose gli altri si sacrificano perché una squadra di calcio così funziona si gioca tutti insieme per vincere si attacca e si difende tutti insieme si vince si perde tutti insieme quindi la partita di Di Bala dentro la partita quindi anche nella fase difensiva mi è piaciuta un sacco ieri sera ragazzi è mancata quella voglia di fare gol sia in quel tiro di Di Bala nel primo tempo sia nel secondo tempo quella stessa di Di Bala morata è morata ma tira in porta e Di Bala ribattuta sulla seconda palla tira in porta anche te non dobbiamo entrare in porta col pallo e dobbiamo fare gol anche brutto ma dobbiamo fare gol siamo 0-0 contro Atalanta Bergamo e dobbiamo vincere la partita quindi 6 e mezzo per Di Bala ma io volevo dargli 7 7 e mezzo 8 perché la partita me la deve risolvere Paolo serve questo step in più nel processo di crescita se no si rimane sempre a questo livello qua e io ti voglio a questo livello qua ma proprio perché credo in te proprio perché so quello che puoi fare ti dico queste cose se no fare lo stesso discorso che faccio per Bernardeschi che facevo per Bentancur oh so che sono questi e quando mi fa la partita leggermente sopra le mie aspettative si beccano 6 e mi accontento ma io per Di Bala non mi posso accontentare Di Bala è un giocatore fantastico io non l'ho mai messo a livello di quelli più alti ma è un signor giocatore Di Bala e voglio di più proprio perché so che Paolo Di Bala mi può dare di più 6 e mezzo anche ad Alvaro Morata signori se tutti avessero la cattiveria e la voglia di mangiarsi l'erba che ha Alvaro Morata questa squadra vincerebbe la Champions con la paglia ve lo dico proprio tranquillamente tranquillamentissimo perché anche ieri sera a centrocampo ho visto un po' di pigrizia delle volte raccorciare un po' di pigrizia Alvaro Morata ha corso le ha prese zitto muto tutte le volte ha preso delle gomitate ha preso delle cavate ha lottato è stato dentro una partita ed è un giocatore fantastico perché ha la tecnica giusta per fare quel ruolo lì ha la corsa giusta la stamina giusta per fare quel gioco lì e secondo me un'altra grande prestazione di Alvaro Morata nel tridente davvero io io di Morata questo nuovo Morata non posso dire niente non posso dire niente se Morata avesse il talento di Dybala e se Dybala avesse il mordente di Morata almeno uno dei due da farne uno incredibilmente forte e invece abbiamo forse anche la fortuna guarda vi dico anche la fortuna di avere l'ascissione di queste caratteristiche in due giocatori così ne hai due invece che uno però quello quel giocatore sarebbe oh vi dico la verità in Vlaovic questa roba la vedo il talento di uno e la fame e la cattiveria di quell'altro in Vlaovic questo lo vedo per quello che vi dico sì ieri sera è partita che non mi ha entusiasmato ma avete visto quanto ha cambiato la squadra solo l'arrivo l'innesto di questo qui perché ora la Juventus ci crede è più cattiva è più squadra è una squadra diversa la Juventus e chi mi dice che non è così che non lo vede che non lo nota che siamo uguali è inizio anno signori miei ripassino forse riguardatevi la partita perché ieri sera c'è stata una gran partita della Juventus non vi parlo tanto dei singoli non vi parlo ma tutto l'insieme è stata una grande Juve peccato non aver vinto e ribadisco preferisco sempre vincere giocando male piuttosto che pareggiare con queste prestazioni qui però quando scendo in campo con questa voglia e mi fai delle partite del genere poi sono anche un po' più inclina a chiudere l'occhio sul risultato per quanto per me rimanga sempre al primo posto l'unica etichetta che mi attribuisco oltre a Juventino è risultatista perché per quanto mi riguarda il calcio è questo è cinismo è quello che ti rimane alla fine io da giocatore di categorie bassissime non sono mai andato a letto contento quando perdevo quando pareggiavo ma cavolo se giocavo bene ma vi giuro che andavo a letto contentissimo anche quella volta che al novantesimo vincevo con l'autogol dell'avversario giocando male tutta la partita a coloro che hanno dominato perché perché ho vinto e noi di vittorie adesso abbiamo assolutamente bisogno iniziamo a mettere insieme vittorie e prestazioni sarebbe veramente il limite massimo l'apoteosi l'orgasmo per tutti i tifosi della Juventus e penso anche per i tesserati stessi della Juve forza Juve ragazzi crediamoci che non è finito niente questo campionato andrà giocato fino alla fine anche con obiettivi a ribasso perché la Juventus non può avere l'obiettivo quarto posto quest'anno va così e a fine anno tireremo le somme faremo le critiche diremo cosa è andato cosa non è andato chi ha avuto più colpe chi ha avuto meno colpe da qui al fine del campionato dobbiamo vincere nel più possibile per arrivare in Champions perché se tra otto giorni giochiamo col Villareal non posso pensare che queste possono essere le ultime serate di Champions per non so quanti anni io in Champions quest'anno ci voglio arrivare e vi dirò di più dopo le dichiarazioni di ieri sera di Marino e dopo certi giornalisti bergamaschi che fanno certe domande un po' così arrivare quarto eventualmente a favore dell'Atalanta avrebbe ancora più gusto perché se fino a qualche anno fa la favola dell'Atalanta il sogno dell'Atalanta e queste cose ero il primo in prima linea a dire oh se non deve vincere la Juve spero che lo vinca l'Atalanta nell'ultimo tempo mi sta un po' passando questa cosa perché? perché sì perché sì perché c'è un limite a tutto fatemi sapere anche un po' la vostra posizione grazie a tutti